Benvenuti su Zoom Approfondimento, oggi parleremo col professor Stefano Grifoni del suo ultimo libro I colori, i rumori, gli odori della salute. Diamo il benvenuto al professor Grifoni, direttore del pronto soccorso di Careggi, recentemente premiato alla regione toscana col gonfalone d'argento. Ben trovati, ben trovati, grazie. Professore, ci parla della sua ultima pubblicazione? Sì, la mia ultima pubblicazione, che è un libro molto divulgativo, che si intitola I colori, i rumori e gli odori della salute, è un libro nato da una necessità, da parte mia, di riportare su queste poche pagine una mia esperienza personale, cercando di tradurre le malattie, anche più complesse, attraverso i colori, i rumori e anche gli odori. Faccio un esempio, i colori sono il pallore o il russore del volto, i rumori sono la tosse oppure il singhiozzo, gli odori possono essere quelli legati, per esempio, a chi soffre di fegato e quindi a un alito particolare o l'alito che viene nel momento in cui uno soffre di periodontopatie. Quindi è un libro molto attento a far sì che chi legge magari riesca a individuare dei percorsi semplici che devono inevitabilmente portare proprio al medico curante, al medico curante, esprimendo in maniera semplice i propri sintomi. Aiuta il lettore a capire anche se stesso, no? Aiuta il lettore a capire se stesso, tant'è vero, lei potrà vedere come nella prima pagina c'è scritto impariamo a conoscerci, tant'è vero è un problema, no? Imparare ad ascoltarci, a conoscerci e anche a guardarci perché oggi il tempo per ascoltarci ce n'è poco, per guardarci ne rimane tanto poco, a eccezione delle signore si guardano più spesso degli uomini, ma ecco questo è un problema che è importante perché per prevenire bisogna indubbiamente avere anche la capacità di ascoltarsi, ascoltare, guardare e guardarsi. Ecco anche perché da soli non si può riuscire a diagnosticare il proprio problema, però magari andando dal medico e fornendo informazioni sul proprio organismo, sul proprio fisico, il medico riesce magari a capire prima? Sempre, il medico curante, il medico che ci conosce meglio è proprio colui che deve iniziare un percorso e capire se è il caso di andare avanti attraverso degli esami strumentali oppure no. Il libro guarda anche con molta attenzione una situazione molto importante, è quella del rapporto diverso che c'è oggi fra il medico e il paziente. Ne discute alcuni aspetti, per esempio si discute nel libro l'aspetto della terapia, perché deve essere condivisa col paziente, l'aspetto degli esami radiologici da eseguire che devono essere condivise col paziente e anche l'aspetto di come si può gestire il paziente nel momento in cui viene data una diagnosi che è una diagnosi, più che una diagnosi diventa una sentenza come quando si dice, guardi lei ha una situazione molto brutta e al paziente cambia veramente la vita perché la malattia cambia la vita e l'esistenza dei pazienti. In internet abbondano siti, siti anche con un fondamento scientifico dove danno consigli medici, insomma si trova un po' di tutto. Lei invece con un linguaggio accessibile riesce a far capire? Il linguaggio accessibile è un linguaggio che viene usato anche nei media, è molto accessibile, è molto pericoloso perché leggendo un libro uno ha un rapporto diretto, perché quando uno legge un libro ha un rapporto diretto col suo autore, perché l'autore esprime in poche righe nella maniera che sa fare quelle che sono i suoi concetti di malattia in maniera più semplice possibile. Invece l'interlocutore nei siti dei media sono invisibili, non si sa con chi si riesce a parlare, se sono medici o non sono medici, se sono persone che parlano delle loro esperienze, ma comunque danno sempre dei consigli che possono essere più o meno utili, ma non sono diretti. Il libro nella propria lettura è più diretto, perché è un libro che uno lo tiene sempre in mano, lo può sfogliare e vedere quello che si dice su un determinato argomento e questo facilita non solo la lettura, ma anche la comprensione di un proprio stato d'animo o di un proprio stato di malessere. Quindi a chi si rivolge questo libro? A tutti, a tutti quanti si rivolge particolarmente ai cittadini, perché vede occuparsi dei cittadini, come c'è scritto anche nel testo, è occuparsi degli altri, occuparsi e quindi comunicare con i cittadini, occuparsi di loro. E credo che sia molto importante proprio comunicare in maniera corretta con i cittadini, perché talvolta i cittadini non sono molto informati, sia per motivi che magari è difficile che si possa leggere i giornali oppure altre cose. Il libro è un libro che è accessibile a tutti come costo, Tra l'altro i diritti d'autore saranno ceduti a una Ollus, che sono tutti per Guglielmo, è una Ollus importante, che ricordo un bambino che è morto proprio quest'anno ed è morto per un tumore al cervello, a cui sono molto legato e a lui e anche alla sua famiglia. E quindi saranno tutti ricavati dei diritti d'autore destinati proprio a questa Ollus, sperando di poter aiutare anche altri bambini. Con Zoom approfondimento per oggi questo è tutto, noi vi salutiamo.